Ciao a tutti da CristianTJ, il salutatore del blog, una grandissima sorpresa, un mito degli anni 80, Denaro, non esagero. Adesso mi ha fatto una lista, devo ricordarmi tutti, saluto tutti gli amici di YouTube, di Facebook, di tutti, di MySpace, tutti gli amici di 70, 80 e tutta la mia grande Denaro. Ciao, grande Denaro. E' figo.